Natura sì, a Tirano, in via Alessandro Manzoni 22. Ieri sera, l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtelinese S.P.A. dell'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie di Creval, promossa da Credit Agricole. Ma se da una parte il CDA del gruppo valtelinese riconosce che l'integrazione di una banca commerciale, come Creval, di fatto solida, con un gruppo bancario come Credit Agricole, possa generare benefici, dall'altra ritiene troppo bassa l'offerta pari a 10,50 euro per azione Creval, ritenuta non congroa da un punto di vista finanziario. Nel comunicato reso noto quest'oggi e che di poco anticipato la conferenza stampa tenuta online dall'amministratore delegato del gruppo Luigi Lovaglio, si legge, Creval presenta diversi elementi distintivi e di valore che vanno considerati. Una dotazione patrimoniale da best in class nel contesto bancario italiano, un'elevata posizione di capitale capace di creare anche le condizioni per un potenziale rafforzamento della politica dei dividendi. E poi un significativo miglioramento del profilo di rischio, con un abbattimento dei crediti deteriorati lordi, ridotti di oltre il 50% dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020. Inoltre un miglioramento dell'efficienza operativa, con elevata riduzione degli oneri operativi, che si sono attestati a circa 393 milioni di euro nel 2020, con un calo del 9% rispetto all'esercizio 2019, consentendo di raggiungere con un anno di anticipo un livello di costi inferiore rispetto a quello previsto dal piano industriale per il 2021. Per la fusione con Credit Agricole sarà richiesto un quorum deliberativo pari a due terzi del capitale sociale di Creval, con diritto di voto rappresentato in Assemblea. Per andare avanti con l'OPA di Credit Agricole sarà dunque necessario sbloccare un prezzo definito non congruo per le singole azioni di un gruppo bancario che presenta diversi elementi distintivi e di valore. Intanto oggi Piazza Affari ha chiuso a 12,09 euro per azione, segnando uno 0,68% in più.